Al fuoco! Dango Set, che invece aveva dormito come un agnellino, ci ha preso per pazzi e ha minacciato di fermare il viaggio se non ci fossimo calmati. Così ci ha portati a fare colazione, ma anche quella è stata interrotta. Cosa deve fare un povero e onesto halfling per fare un passo decente? Questa volta da una donna terrorizzata il cui villaggio stava venendo bruciato. Senza pensarci troppo ci siamo lanciati in un salvataggio disperato coinvolgendo anche qualche paesano e un giovanotto appena entrato nella guardia. Arrivati al villaggio abbiamo trovato goblin, goblin ovunque, nelle case, nelle strade, sui tetti! Abbiamo combattuto duramente e quasi tutti i bravi paesani ci hanno rimesso la vita. Anche noi ne siamo usciti maluccio, ma grazie alla spada di Alexander, la magia di Sebastian e il coraggio della giovane guardia siamo riusciti a uccidere tutti i mostricciattoli. Anche quei maledetti sul tetto. Purtroppo però abbiamo perso un amico, il buon Dango Set. Mi ricorderò sempre di te e del barriere di Bugman XXXXXXX che ho recuperato dal tuo carretto. Se anche voi avete visto ciò che ho visto io, cambiamo la decisione a prendere. Io sono otto e spaventato. Otto e spaventato. E anch'io sono un po' spaventato da questo cavaliere, un cavaliere che si muove nella prughiera. Però potrebbe avere informazioni interessanti su quello che sta succedendo. Potrebbe essere la nostra fine, anche se si presentano in qualcosa di mistico, visto il mantello evanescente. Gobin stavano scappando da qualcosa. Esatto. Io faccio un sesto senso per decidere. Cosa ti dicono i tuoi sensi da mago? Aspetta, io ho sesto senso come talento. Ci provo, testo intuizione, di certo non passa mai. Vediamo cosa succede a questo giro. Non penso che non è mai passato. E neanche stavolta passa. Perché ho 45, ho fatto 54, come direi che fallisco di uno. Ok. Non hai nessuna percezione particolare, né negativa né positiva. Non mi dice niente a sta cosa. Io percezione sulla magia in realtà non ho un'abilità specifica. Dove sempre fare intuizione, mi ricambieranno poco a questo punto. Da un lato c'è la curiosità forte del manco, vuole imparare cose nuove e conoscere cose nuove nel mio personaggio. Dall'altro effettivamente mi hanno preso le legnate mica male e questo potrebbe essere pericoloso. Però quindi c'è la curiosità assinale. Io voglio conoscerti. Quindi sì, voglio andare a vedere cos'è. Stiamo a vedere che cos'è? Otto, non avere paura, ti proteggeremo noi. E' proprio quello che lo spaventano. No, io non ho detto effettivamente di no. Siamo che sei poco propenso. Diciamo che Otto non ha aperto bocca da questo punto di vista. Lascia praticamente decidere voi. Ok. Andiamo? Andiamo a vedere che cosa c'è. Ok. Bene, ci avviamo cautamente. Vi avviate verso il villaggio. E vedete che si trova su una piccola altura, quasi una sorta di collina. E vedete che il villaggio sembra completamente abbandonato. Però ci sono delle luci accese al di fuori delle casette. Come delle sorti di lanterne. Qualche casette ci sono? Ah, ce ne saranno circa una quindicina. Un piccolo villaggio. Un piccolo villaggio. Un caverna neanche fatta, fatta giù. Ci sono qui le lanterne. Ok. Ma vediamo un movimento o qualcosa di genere. No, assolutamente non c'è. Allora, innanzitutto non c'è assolutamente... Assolutamente non c'è rumori. Non ci sono rumori, non c'è niente. Non sentite alcun rumore di nessun tipo. Se non appunto magari qualche rumore di animale. Tipo dei gufi, dei rumori così. Però non si sente alcun suono in particolare. C'è qualcuno di noi che vede bene il buio? Io no. Io ho giorno adesso, giusto? Sono io che vedo meglio il buio, credo. No, ma adesso è ancora giorno comunque. No, notte. Notte, notte. Notte, questo è il problema. Io ho night vision. Io accendo una torcia. Tu vedi qualcosa? O al di fuori delle luci che mi possono vedere. Provo a fare un tiro di percezione, Roberto. Vai. Più quanto, Marco? Più quattro. Più quattro, ok. Quaranta. Allora, Marco, tu noti che le strade desolate, sembra quasi che le case siano proprio impolverate. Ci sono ragnatele appese alle varie travi che sporgono dalle case. E notate anche che tu in particolare, Marco, noti che queste, diciamo, lanterne, la luce, la luce della fiamma, alle volte tende al verde. Guardo i miei compagni e gli dico, non lo so, la mia nonna mi raccontava sempre dei fuochi fatui che attirano i viaggiatori lontani dalla loro destinazione. Quali lanterne, secondo me, sono fuochi fatui. Io non vedo segno di vita in questo villaggio. Mi sembra che le case siano abbandonate e che la luce non sia una luce vera. Non so se i miei occhi stanno giocando uno scherzo, ma... Se mi sentivo un po' più sicuro prima, ora ho cambiato completamente idea di volermi avvicinare al villaggio. A parte quello che ha visto Otto, noi non brichiamo niente, io e l'Alexandro, giusto? Non sentiamo, sentiamo questo silenzio. Il silenzio è tombale, a parte qualche animale notturno, tipo dei gufi, cose del genere, e rumori soliti che si possono sentire. Alexander ha acceso la torcia, ma non ha cambiato niente, giusto? Non vedete niente di più. No, io ho acceso la torcia perché è buio. Beh, in effetti è buio, nel senso che comunque le uniche luci che ci sono sono queste lanterne che sono appese alle casette e che emanano, sfrigolano di luce verdastre, vi ha detto Marco. Beh, accamparci fuori... È pericoloso tanto quanto accamparci dentro. O prendiamo e ci allontaniamo velocemente o entriamo. Ci barricchiamo in tante parti. Ci allontaniamo velocemente? Io sarei per quello. Ok, allora, tutti e tre fate un test di volontà. Oh mio Dio. Bice... Fantasy Willpower. Tasty Willpower. Arrivo subito. Willpower. Allora, dove sta Willpower? 34... Io ho Cool. Aspetta, non so che c'hai Cool, però devi tirare. No, no, io ho Cool come... Eh, vabbè, sì. Come Willpower. Cool e freddezza. 39. No, non devi fare Cool. Devi fare Willpower. Eh, sì. Che c***a. 82, no. Non terrorizzato. Lo fallisco di 8,35. Hai fatto peggio di me. Ok. Che squadra che c'è. Abbiamo Willpower di una birra sgasata. Porca miseria. Abbiamo fallito il test di Willpower. Ok, improvvisamente, come davanti a voi, non so se avete presente quegli effetti cinematografici dove improvvisamente è come se l'obiettivo della camera incominciasse a farvi una distorsione del campo di visuale, tale per cui le cose si incominciano ad allungare, no? E sembrano che si allunghino e si allontanino da voi. Quindi la prospettiva si allunga. E... Incominciate a sentire... modello La Foresta con Bimbo. Bravo, esatto. Esattamente quell'effetto lì. E incominciate a sentire queste voci e queste cose dei rumori per non più di questo tipo. No, ma cambiate idea, non cerco di capire da che parte vieni. Io non lo sento. Scusate. Mi giro verso il buon mago e gli tiro la paga e gli faccio io qui non ci volevo venire. Madonna mia, che cosa brutta. Un po' a umbe. No, adesso lascia. Ti ricordo che la prego sta male, quindi già questa è peggio. È abbastanza aggirato. Improvvisamente una delle porte di una delle casette che sta davanti a voi si apre, si spanca e incomincia tipo... Da lì esce una sorta di figura umanoide che zoppica arrancando e avanzando con un bastone. Riusciamo a capire se è vivo o morto? urlo un chi siete rivolto alla creatura. Ok. Incocchio una freccia. Incocchio una freccia, ok. Ci sta. Io e te siamo come le cose su un cavallo insieme. Ok. È come Gandalf quando si porta in giro pipino. Esatto, Gandalf e pipino. Stando il bastone verso la figura incappucciata che sta zoppicando verso di noi urlo un chi siete? Ok. Niente, vedete che questa figura non risponde e vedete che ha tipo queste sorti di cappuccio e è piccolina questa figura non è tanto alta. No, no, no. Però tipo sarà un metro e sesanta o un metro cinquanta di altezza e vedete che zoppica verso di voi arranca trascinandosi a stento su questo bastone e sta venendo verso di voi. Ferma, abbiamo un cavaliere armato! Magari lei non lo sa che il cavaliere abbiamo noi. Ma riusciamo a capire se è vivo o morto? Eh, no, è tutto coperto da queste vesti. Vedete solo che arrabbi... Non è un testo di percezione. Poi provare a farlo. Più zero. No, scusami, più uno. Più uno, ok. E vedi che la mano che stringe il bastone che è l'unica cosa realmente scoperta oltre delle sorte di capelli bisunti che escono fuori dalle vesti a parte quello vedi che insomma le quelle parti lì sono abbastanza la pelle sembra piuttosto marcia. è un non morto metto in guardia gli altri due uno agli altri due scocco brava beh ci dici così io carico un dardo ok io scocco la frezza ok vai Marco tira io metto lo scudo mi metto davanti a loro in posizione di difesa allora quindi SDS giusto? si SDS ma che buono è vero che è impreciso giusto? mi hai detto che era impreciso l'arco perché era rovinato dai fobi sì allora io avrei fatto un più due quindi soffro meno uno perché è impreciso quindi è più uno ok la tua freccia colpisce il bersaglio fa i danni tre bonus ho più uno più due e ho più tre ok quindi tre danni devo metterci anche il successo che ho fatto anche i livelli di successo certo quindi quattro in totale ok quattro danni va bene la freccia lo colpisce vedi e si infila dentro come reagisce? stavo scrivendo appunto la freccia lo colpisce e vedete che lui viene un attimo sbalzato l'indietro dal colpo e poi lentamente ricomincia ad arrancare verso di voi io lancio il barbo che l'avevo già caricato vai il passato è vestito contestualmente del Danarco avevo fatto un 5 quindi dovrei aver fatto un più 4 quindi è passato più willpower è differente io dovrei pagare 8 danni si fa il link e se sono 8 danni no aspetta il tiro è più 4 sì devo aggiungere willpower che è 4 se no ma di di per sé è a 0 lui il barbo eh sì quello sì allora l'ha tirato un 5 contro un 45 di intelligenza per il test quindi ho fatto più 4 tu fai soltanto di danno o fai praticamente la la differenza di di successo perché ti dice più damage off più 0 quindi la differenza di successo a questo punto è da 45 a 5 e non è 4 sì è 4 gli fai 4 danni è giusto 8 danni avrei fatto un ottimo tiro perché se avessi fatto 4 avrei fatto 0 avrei fatto solo 4 danni ottimo tiro davvero bel colpo allora il dardo lo colpisce in pieno e tendenzialmente questa figura crolla a terra e sembra diciamo rimanere stesa a terra ci avviciniamo ok lo esaminiamo no 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 sei sul cavallo io mi avvicino a circospetto con la spada con la spada non lo sapevo il circo spero eccolo ok 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 vi avvicinate al cadavere di questa di questa creatura e e vedete che è questo corpo avvolto in tele eccetera eccetera sembra essere completamente fermo e non non dare segni di vita cosa volete fare? io scendo a cavallo e cerco di fumolarlo col bastone e adesso riesco a scoprire per vedere meglio qualcosa ma sempre toccarlo con le mani perché antiche esperienze mi dicono che meglio non toccare con le mani ok va bene toccandolo succede succede che realtà resistenza io urlo a Sebastian si vai ho fatto 8 8 già buono tante fico già mi vedevo morto ok niente praticamente questa sorta di forma spirituale uscita da questo cadavere ti passa attraverso e tu senti come una sorta di brivido lungo la schiena molto gelido però si tipo vigor però diciamo tutto a posto non si è visto danni in mutazioni no per il momento non sembra che sia successo nulla di grave la musichetta non è migliorata io un po' volbettano ti dico se basti tutto bene farrebbe di sì ma che fine ha fatto la creatura mi guardo in giro circa traccia si è riuscito a seguire il giro che ha fatto o è scomparsa no è proprio è proprio scomparsa cioè nel senso no sono rimaste solo le sue vesti e il bastone su cui si si stava trascinando c'è qualche segno sulle vesti il bastone c'è qualche indizio non c'è niente sembrano delle vesti strucite e il bastone ha un pezzo di legno poco ben poco lavorato quindi niente in realtà intorno a noi tipo le luci sono sempre verdogno e l'atmosfera è sempre di merda sì abbastanza sì sì in realtà non è cambiato un campo ok fate un test di percezione entrambi perception quindi su io no merda 26 lo fallirò più 2 no io invece l'ho fallito di 3 l'hai fallito di 3 di percezione eh sì ho 26 ho fatto 52 io ho fatto più 2 più 2 tu Marco hai come la sensazione che sia passato qualcosa velocissimo dietro di voi mi giro tentando di puntare questa cosa con la con la freccia ok e vedi che ti volti e non c'è dietro di te non c'è più niente cioè non c'è proprio niente e tu eri convinto che ci fosse qualcosa dietro di te ma non c'è niente se basti hai qualche trucco di protezione qualche magia che ci possa proteggere nel momento di lanciarla c'è qualcosa dietro di noi l'unica cosa che penso che posso fare sia o luce perché ho dardo risucchi e energia aprile i lucchetti far dormire ma lo devo toccare se non lo vedo inutile posso produrre animali piccoli se vuoi provo a sguinzagliargli un topo addosso e la luce è la luce di solito spaventa le creature delle genere posso provare a aumentare l'intensità provo a fare luce vediamo sul bastone tipo alla Gandalf tu non puoi passare vediamo buono 15 quindi passato questo 45 un più 3 quindi mi passa allora succede succede qualcosa dobbiamo puntare la luce intorno col bastone succede qualcosa con le mie luce magiche ok quando accesa la luce magica sul bastone improvvisamente davanti a te compare un volto scocco la freccia c'ho c'ho un grilletto facile stasera ok tira il dardo no mi sono proprio spaventato 80 quindi l'hai sparato per aria è un meno 4 stavolta anzi è un meno 5 con l'imprecisa ok la freccia passa attraverso questa faccia gigantesca che è comparsa davanti al buon Sebastian e non la praticamente gli passa attraverso e si conficca dentro una casetta più avanti io provo a chiedermi chi sei e nel momento in cui chiedi chi sei vedi che in realtà stai parlando col vuoto nel senso ti stai rivolgendo dell'aria quindi probabilmente e guardando in giro quindi con con la luce ancora niente esatto provo a aumentare l'intensore della luce una cosa che non ho mai fatto devo fare un test spero che lo vado a prendere però che non mi ricordo allora canning coeranza su channeling ok vediamo se va channeling ho 40 819 devo fare un plus 20 qui si e aumento l'intensità della luce cosa succede? eh la tua luce fa ancora più illumina ancora di più più attorno ma non sembra esserci anima viva e vedi che improvvisamente le fiammelle che stanno nelle lanterne si stanno lentamente spegnendo beh a questo punto se intorno non abbiamo più niente provo a vicinarmi alle case ok incocco una terza frezza l'atmosfera si fa pesante vedete che c'è parecchio inizio incomincia a diventare estremamente umido l'ambiente attorno a voi umido umido molto umido ecco non possiamo fare niente ragazzi non vediamo niente non facciamo niente non che possiamo fare non ne veniamo fuori il fuoco abbiamo la torcia di Ale se andiamo proprio verso una casa come dicevi tu andiamo verso la casa dove si è conficcata la mia freccia almeno proprio recuperarla vai va bene ok vi avviate vi avviate verso la casa e e a un certo punto quando avete raggiunto quando tu finalmente Marco riesci a mettere la mano sulla freccia per estrarla sentite come un urlo mollo la freccia ok e vi accorgete che il cavallo del buon cavaliere Alexander Romain è rimasto senza cavaliere no no non è finito farò la connessione anche lì provo a fare un test di percezione per capire se l'hanno trascinato via se ok prova a farlo un test di percezione cioè il cavallo è tranquillissimo è di fermo non riesci non riesci a a a trovare nulla di particolare vedi vedi presente il cavallo che è fermo immobile esattamente l'ultima volta dove ti eri girato dove avevi visto Alexander Romain essere seduto sul cavallo e il cavallo è di fermo immobile non si è mosso di un centimetro però non c'è più non c'è più Alexander ma muove la coda se si vede tipo le le narici che si dilata si si è vivo è vivo però è fermo immobile cioè non si sta completamente è proprio paralizzato ragioniamo un attimo respiriamo profondamente però io non sono ancora un mago però sembra chiaro che ci sia qualcosa di magico in atto certo tu puoi fare una percezione magica volendo tu essendo mago hai la magical vision che praticamente è sostanzialmente tu invece che utilizzare la percezione normale decidi di fare un test di percezione percependo solo eventi della magia però cosa ti tiro? percezione sempre però non percepirai nulla di fisico se specifici che è una percezione magica ok vale di percezione magica fallisco solo di 4 fallisci solo di 4 troia maledetta bastarda non percepisci nulla di dispellare qualcosa a calo no allora non percepisci nulla di particolare solo la tua inettitudine ora cerco di concentrarmi di più respiro profondamente per acquisire punti buoni dovete fare un test di cool però si buono fallisco solo di 4 anche questo bene no successo più 2 ok allora tu fra a differenza di quello che succede a 8 Sebastian è estremamente impaurito da questa situazione ovviamente il fatto anche di non essere riuscito a capire cosa sta succedendo da un punto di vista magico ti terrorizza ti terrorizza e non riesci più a muoverti sei come paralizzato e dal panico e tu e tu e tu e tu 8 riesci a vedere che che Sebastian è proprio nel panico più totale è sbiancato ed è fermo bloccato sul suo cavallo e non riesce più a muoversi mi giro verso mi giro verso Sebastian mi tiro la barba come al solito dico amico Sebastian non perdiamo la calma sono sicuro che che ci sia una spiegazione la scorsa volta ci siamo svegliati e non è successo niente di quello che abbiamo visto io credo che anche il fatto che il cavallo di di Alexander sia fermo vuol dire che forse lui magari sta cercando noi e noi non vediamo lui ci deve essere una spiegazione ci deve essere per forza una spiegazione potrebbe essere un'illusione che in questo caso hai ragione respiro profondamente cerco di calmarmi ok vuoi scendere da cavallo fra si forse è meglio fai un testicul ok niente vabbè comunque questo testicul l'ho fallito solo di 4 ok non riesci a scendere da cavallo hai troppa paura ascolta io visto che mi sono anche fatto un po' di forza allungo ancora la mano e strappo la freccia ok stacchi la freccia dalla porta e la porta si apre una percezione veloce dentro per vedere se devo richiuderla di volta ok guardi dentro e vedi che la casa è vuota la casetta è vuota e sembra essere abbandonata da un sacco di tempo possiamo fare due cose adesso Sebastian provare a cercare Alexander oppure provare a rifugiarci dentro nella casa e serraigliarci fino al mattino direi che finché non sappiamo di cosa sta succedendo qui non conviene maverci ancora rimanere più vicino possibile a cavallo di Sebastian che potrebbe essere ancora lì e non vedere noi come dicevi tu piuttosto che rintanarci nella casa e non sapere cosa succede qua anche perché se stanno usando l'illusione contro di noi perché non ci vogliono non possono portarci direttamente quando vuoi ungo provo a rifare un'altra volta adesso speriamo di passare ok tu Marco cosa cosa pensi di fare entro nella casa scendo da cavallo e entro nella casa ok scendi da cavallo e lentamente diciamo entri la casetta di legno mentre entro rifogero l'arco con le mie quattro frecce e tiro fuori uno dei due pugnali ok la casa come ti dicevo è piena di polvere ragnatele vedi che ci sono però tutti gli oggetti di una vita quotidiana al suo interno e e vedi anche che ci sono posate in giro ci sono candele ci sono anche delle piccole diciamo dei piccoli quadretti appesi ai muri che raffigurano paesaggi ci sono anche addirittura della frutta marcia in un piatto come se la casa fosse stata abbandonata di botto come se la casa fosse stata abbandonata di botto sì cioè comunque tutto è ancora vissuto questo posto nel senso ha tutto l'occorrente per poterlo abitare ma è tutto così vecchio e stantio a me più che altro serve sapere se c'è un tutto l'occorrente per barricare la casa ma volendo vedi che è molto facile barricarla volendo perché ci sono comunque tavoli e sedie da poter mettere davanti alle porte e alle finestre ok faccio segno a Sebastian che mi può seguire ok Sebastian tu vedi Otto che ti fa segno di di seguirti puoi provare a fare un testi cool 16 passato ok la diciamo che la visione di Otto che ti sbagliata dalla casa che ti fa segno di entrare ti dà un poco di coraggio che ti spinge a scendere da cavallo e a seguirlo seguiamo ok se basta appena tu metti piedi dentro la casa la porta della casa si chiude e sentite che fuori tira un gran vento i vostri cavalli li sentite nitrire in maniera piuttosto forte provo a ripercepire la magia che è proprio di capire cosa sta cacchia succedendo io nel frattempo guardo fuori dalla finestra e faccio un percezione ok fantastici percezione vai e uno ok franco zero ok i venti della magia soffiano fortissimi in questo momento non riesci a distinguere però cosa sta succedendo effettivamente a livello magico fuori dalla casa tu invece Marco vedi che fuori tira un vento pazzesco tale che sta praticamente spazzando via foglie piante cose del genere si vede proprio fortissimi non c'è segno dei cavalli eppure senti il nitrito non c'è proprio non riesci a vedere i cavalli fuori ma senti il loro nitrito e vedi in particolare che le fiammelle delle lanterne si stanno sempre più affievolendo io sono sempre più convinto che questa sia un'illusione mi sto convincendo di questa cosa non ne so nulla di magia non ne so nulla di ma sono convinto che sia come il sogno che abbiamo fatto nella locanda però ricordo anche ricordo anche che il sogno mi ha lasciato un vivido quindi sono anche abbastanza sicuro che qualcosa di fisico ci possa essere però sono sicuro che sia un non lo so non sia un pericolo vero ma sia quasi più un avvertimento ok mi convinco di questa cosa ok cosa volete fare? io vi dico aspettare aspetti ok e lo dico anche a Sebastian gli comunico questa mia idea e dico Sebastian io sono convinto che sia un'illusione come quella dell'altra volta un pericolo ci può essere perché ricordate il vivido che mi sono ritrovato ma credo che sia più un avvertimento non credo che sia un vero proprio assalto secondo me ci conviene aspettare e vedere che cosa vuole dirci questa visione e in caso mi sbagli ce la diamo a gatti adesso mi sono cagato adesso basta direttamente vediamo cosa succede nel frattempo che aspettiamo c'è qualcosa che possa di valore nella casa puoi cercarlo ti faccio una percezione dedicata a questo probabilmente in verità continuo a buttare un occhio fuori perché faccio 91 ok allora quanto hai fatto? 91 quindi è un meno 5 non trovi niente di particolarmente interessante non perlomeno quello che stavi cercando tu probabilmente continuo in verità a buttare un occhio fuori dalla finestra non mi stanno cerchi di fare il calmo tranquillo ok tu fra vuoi fare qualcosa? non so inizialmente vorrei capire cosa succede ma con la percezione che ho non funziona quasi niente e anche riuscire a fare mi hai detto che i venti sono troppo forti non sono qui su nostri quindi guardare in giro lo sto già facendo 8 io cerco di calmarmi e di concentrare il più possibile ok sentite che il vento continua a soffrire sempre più forte sempre più forte e vedete i vetri della casa che stanno incominciando a vibrare in maniera estremamente forte e vibrano fortissimo e quasi che si stiano per spaccare mi allontano dalla finestra non sentite più l'intrito dei vostri cavalli e è come se un sussurrare di voci componga il vento esterno esatto sente qualcosa di particolare nelle voci sembrano parole di un'altra lingua che voi non conoscete non lo sai puoi provare a capire cosa dica puoi provare a capirlo 5 quindi più 4 ok non riesci a capire la lingua perché non la sai questa lingua però secondo te hai un buon presentimento di cioè un buon presentimento no hai una secondo te hai dei buoni indizi tali per cui questa cosa sembra essere come una voce di un incante una recitazione di un incantesimo quindi qualcuno sta recitando un incantesimo io posso provare a dispellarlo adesso che penso che sia un incantesimo no non sai disperderlo come non lo so disperderlo poi hai un ma non sai che incantesimo è questo non sai neanche le parole non conosci neanche il linguaggio con cui viene recitato questo incantesimo riesco a capire le parole anche se non ne conosco il significato no perché non conosci la lingua quindi non sai dove inizia una parola e dove finisci un'altra l'idea era di trascrivermi eventualmente i suoni per cercare di capirci molto più eh sì ma non hai non hai modi cioè non hai modi di disperderla perché non hai idea di cosa sta dicendo non è per disperderla a questo punto ho capito che non la posso disperdere la mia idea era non capisco cosa è la lingua non capisco cosa dice ho l'idea che sia un incantesimo ho del non c'è niente da fare ho un tavolo una sedia con il mio borsello con la carta e la penna provo a scrivermi quello che sento tendenzialmente tu sei scrivere giusto sì ok allora puoi fare puoi fare un test di osservazione di percezione scusami no non dicevi primamente lo chiedevo puoi fare un test di percezione e provare ad ascoltare attentamente questi suoni per provare a scriverli male di perception è fallito non riesci a cogliere nessuna parola non riesci a registrare quello che sta dicendo questo vento niente ok continuo con la meditazione e la respirazione nel frattempo io che ho visto il pon sebastian tira fuori carte e penne il tipo non concentrarti sulle voci del vento ti faranno diventare matti ok ok improvvisamente le luci esterne delle lanterne si spengono il vento il vento si arresta del tutto e incominciate a sentire come una sorta di rumore come di grattare un rumore come di terra smossa un rumore come di sassi e pietre che si spostano tra di essi di loro sai che faccio? cazzo da fare crei un topo un topo? si gli animali piccoli in teoria deve essere inerente col luogo in cui vi sto in una casa come questa un topo ci può stare altro animale forse un pipistrello ma meglio il topo secondo me allora allora il topo vediamo uguale un istantaneo il topo io direttamente lo voglio crearlo quindi si c'è il test il test fallisce di 4 ottimo bene quanto hai fatto tra l'altro fallendo i 4? 80 81 81 ok io sono in questi momenti sono indeciso se preparare l'arco o tenere ancora in mano il pugnale ok per cui guarderò fuori dalla finestra ok sembra non esserci nulla fuori dalla finestra tutto sembra essere come prima ma è molto più buio perché giustamente però io ho night vision si 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 però fuori è comunque molto più buio di prima una sola finestra ci sono più finestre ci sono tre finestre in totale che danno sulla sulla stradina centrale della del ogni tanto provo a cambiare finestra a vedere se un po' di ronda diciamo ok va bene io quando posso riprovo a creare il topo ok riprova 17 stavolta lo passo più 3 è il topo grosso ok e cosa ci fai col topo gli dico cercalo e attaccalo è un topo magico quindi sempre la magia lo seguo col bastone in mano cerco e attaccalo cosa pago quello chi c'è qui siamo noi due non è il nostro amico cavaliere e il topo rimane fermo esattamente dov'è merda ho sbagliato il comando devo trovare il comando giusto portami al pericolo gli chiedo il comando e il topo rimane fermo esattamente dov'è qui non c'è pericolo oppure è qui io comunque penso che Sebastian sia un po' matto che parla con il topo si beh ti sembra un po' particolarmente suonato dopo di venirmi in tasca intanto provo a mulinare il bastone in giro vedo se c'è qualcuno che non vedo ok ovviamente cercando di evitare il buon otto ok non c'è nessuno in giro secondo te Sebastian è completamente impazzito vedi che sta combattendo contro niente e allora prendo e esco fuori c'è un problema la porta è chiusa è chiusa come? è chiusa non riesci ad aprirla nel senso è scattata la sterratura piuttosto potenzialmente sì non si apre Otto puoi vedere se aprire la porta? ok mi avvicino alla porta e provo prima ad aprirla per vedere se magari non è un'idea di Sebastian e se vedo che effettivamente anche per me è chiusa provo a scassinarla ok allora la porta sembra essere chiusa per provare a scassinarla allora slino slino hand sì bambagno meno due è difficile da sbagliare questo non riesci non riesci purtroppo a scassinarla ci sono una stanza sgabelli sedia e roba del genere sì sì ci sono eccome sfondo una finestra un po' ti odio sabido ok sentite delle voci provenire da dentro da dentro la casa c'è un luogo preciso una volta che avete spaccato la finestra la porta è ancora chiunque sì sì le voci dicono qualcosa che comprendiamo come al solito no no le hai sentite le voci io ho sempre la luce accesa sul bastone non vi lo capto no non è che non c'è niente di fisico attorno a te sì non so ma non so cosa fare per quello che non è fisico porca miseria non rispondono se gli chiedi qualcosa non rispondono se giro con il bastone non mi cagano porca miseria frustrante e allora cerco di uscire dalla finestra che ho rotto ok esci dalla finestra e ti ritrovi praticamente nel villaggio da fuori riesco a aprire la porta no è chiusa ora cerco di dire otto otto vieni anche tu cerco di aiutarlo a passare dalla finestra prendo uno sgabello e provo a passare anche io la finestra ok nel momento in cui tu esci praticamente vedete come una sorta di cavaliere fantasma con il teschio infocato arrivarvi contro ma devo entrare la casa da fuori no no nella stradina in cui siete usciti dalla casa ma ci sta caricando con intenzione minacciosa mi sta sta cavalcando al galoppo verso di voi e considero arco e freccia arco e freccia hai in mano un'arma? eh ha tipo come delle delle sorte ha una sorta di falce a cui sono legati tipo delle delle degli incensieri e la sua testa va in fiamme ah io appena posso mi provo a urlare di un fermati chi sei io incocco la freccia appena posso la tiro è proprio col dialogo io voglio capirci qualcosa ok marco spara la freccia dialogo parlavamo eh non ti risponde fra ti stai cagando in mano ti sta venendo addosso salve lei come si chiama? qual è il suo codice fiscale? carico il dardo ho capito carico il dardo va bene ho fatto più uno e ho un meno uno dell'arco quindi sono più zero ok la freccia la freccia lo colpisce ok e vai fra fai danni tu intanto Marco più zero anche io quindi gli faccio quattro di willpower ok anche il dardo lo colpisce ok ho tre danni perfetto entrambi lo colpite ok e sembra dissolversi nel vento a cagare a cagare cagare c'avevo una torcia cavaliere nostro invece in giro non si vede vero i cavalli invece? i cavalli non ci sono quindi siamo ancora nell'illusione le lanterne sono vicine no per l'antara sono tutte spente sono tutte spente io Umberto vorrei provare a camminare verso il posto dove avevo visto l'ultima volta il cavallo di Alexander quando era fermo proprio fermo immobile si provando a tastare con una mano ok non ci trovi niente al tatto non ci trovi niente ma vedi che per terra c'è una strisciata di sangue comincia ad essere preoccupato per Alexander capisco se questo è pronto 8 io sinceramente non so cosa fare tutto quello che sta partendo non funziona